Una cava dismessa in provincia di Latina, trasformata dal 2006 in un'enorme discarica per rifiuti tossici, decine di camion e macchinari utilizzati per il trasporto e l'interramento immediato delle sostanze pericolose, è quanto ha scoperto la polizia al termine di un'inchiesta che ha portato all'arresto di una ventina di persone, accusate a vario titolo, di far parte di un'associazione dedita al traffico illecito dei rifiuti pericolosi, indagati numerosi imprenditori in corso, sequestri di società.